Partiti i ragazzi della categoria Open, giro di lancio più 5 giri compresi, questo anche per le categorie ammatoriali, abbiamo suddiviso con partiti anche i concorrenti della prima fascia ammatoriale, poi li hanno raccogliati, li hanno accortati, li hanno accortati di partenza unica, abbiamo anche Sergio Latto, il mio giuomo di gara con 560 euro. Grazie a tutti! 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 Ciao! Ciao!